Buonasera a tutti, mi ero ripromesso di non fare più video sbrocchi, me l'ero ripromesso perché sostanzialmente il tempo della ragione è finito, il tempo della ragione è finito è il tempo di qualcos'altro, è il tempo in cui ragionare, tirare fuori dati, tirare fuori grafici, ragionamenti di vario tipo non serve più a niente. Perché non serve più a niente? Perché la democrazia attuale, più di quella tradizionale perché si sono aggiunti i social, si è aggiunto il bar sport social, eccetera, la democrazia a suffragio universale ha aggiunto, ha raggiunto un livello in cui il cosiddetto andatevelo a studiare, perché tanto bisogna studiare per capire certe cose, è quello che noi perdiamo regolarmente e vince una massa di cretini devastati mentali che poi perdono loro stessi, perdono prima tutto per loro stessi, ma se ne accorgono sempre troppo tardi Allora, andate a studiarvi cosa vuol dire il bias cognitivo, ok? Il bias cognitivo è, come vi leggo la definizione, no? Bias cognitivo, no? Adesso io lo dico letteralmente, no? In psicologia indica un giudizio o un pregiudizio non necessariamente corrispondente all'evidenza sviluppato sulla base dell'interpretazione delle informazioni in possesso che in un popolo a maggioranza assoluta di analfabeti funzionali da record mondiale potete immaginare che cosa possa essere in possesso di queste persone anche se non logicamente o semanticamente connesse tra loro porta quindi a un errore di valutazione, questo è il bias cognitivo Allora, qualunque politica oggi si basa sul bias cognitivo La pronuncia non sarà giusta, ma chi se ne frega Tanto vi faccio un calco italiano che va bene così e basta e avanza Il bias cognitivo apporta che qualunque logica politica che esiste da anni un po' in tutto il mondo, ma in particolare in Italia in particolare in Italia, per le ragioni che spiego da tempo porta al fatto che la politica vincente la linea politica vincente non è quella più logica più basata sulla razionalità, sui dati sul fatto che magari non subito, ma da qui a cinque anni potrà avere un vantaggio per tutti, per la comunità No, non viene basata su questo, viene basata sul bias cognitivo O bias, ok? Se volete bias all'inglese Come cazzo, chi cazzo se ne frega Ve lo andate a cercare? B-I-A-S cognitivo Studiatevelo Tanto ormai la pronuncia è l'ultima delle cose Posso anche usare congiuntivi sbagliati Chi cazzo se ne frega Avrò milioni di mi piace rispetto al fatto di usare cose corrette Quindi, guarda, se lo sbaglio, meglio ancora Allora, questa distorsione cognitiva Perché poi alla fin fine è una distorsione Porta le persone a credere in quello che in quel momento Li suona meglio, ok? In politica, nella politica del suffragio universale Quel maledetto, maledetto suffragio universale Che purtroppo sarebbe giusto in teoria Ma invece è un disastro da secoli Da sempre, da quando c'è È un disastro E chiedetevi il perché E chiedetevi il perché Bene Il bias cognitivo vi porta Il bias cognitivo vi porta A che cosa? Vi porta a credere in cose che sono fantascienza Perché in quel momento vi suonano meglio La maggioranza della gente vota su quello Vota su quello Non vota su il fatto che Quel certo provvedimento politico Secondo dati Sta portando a un peggioramento Un miglioramento Metti più 2, meno 2% Non cambia un cazzo Non cambia un cazzo La gente vota alla minchia di cane Nel suffragio universale Nel suffragio universale Alla minchia di cane Perché Io me lo ricordo Mia madre votò Berlusconi Perché la madre di Berlusconi Disse che era un bravo ragazzo E allora mia madre Giustamente Disse E beh se lo dice sua madre Deve essere per forza un bravo ragazzo Oppure perché aveva una bella cravatta Siamo a questi livelli Non oggi Ma da sempre Siamo i livelli Da quando ci fu Berlusconi Che iniziò lo stracasso quotidiano E che il trend di stracasso Che al peggio non c'è mai ribasso Che abbiamo oggi E man mano Sempre di più E il PD Che continua a ripetere Delle stronzate galattiche E che oggi Con il Montalbano dei poveri Lennista Che è arrivato lì Si è fatto uno studio di marketing Ha visto qual era il bias O il bias cognitivo Eccetera Ha detto Quale cazzata devo dire oggi? E si è messo a dire qualche cazzata Per avere cinque punti in più Questa è la democrazia In cui voi oggi credete Questa è la democrazia E quindi Non parliamo del Movimento 5 Stelle Non parliamo di Salvini Non parliamo di Salvini Che si è inventato le peggio cose Fantascientifiche Al primo consiglio dei ministri Vi tolgo la Cisola benzina Mai fatto La benzina tocca nuovi record Di periodo Eccetera C'è l'invasione Gli immigrati E poi lui stesso dice Che non sono 600.000 I clandestini Ma sono 90.000 Siamo Alla barzelletta E nessuno di voi si scandalizza Perché le tesse di cazzo Siete voi Siete voi Probabilmente non quelli che stanno ascoltando me in questo momento Perché magari vogliono sfogarsi cinque minuti Con lo stronzo di passaggio Che è un po' pazzerello E lì che oggi è un po' incazzato E fa il video sbrocco Uh che divertente Uh ma come divertente Ma che sfogo in questo video sbrocco Così magari Non vado a fare una pippa Non vado a cagare Nel water Non mi spazzo il culo Eh? E così non vi spazzate il culo Della vostra mente Perché uno vi dà un minimo di sfogo Questo è oggi Anche la democrazia Anche io Sono un pessimo elemento Di questa democrazia E lo ammetto Perché vi do degli sfoghi Che non portano a un cazzo di niente A un cazzo di niente E per quello che non li faccio più A cosa cazzo servono? A niente A nulla E io le cose che non servono a nulla Non le faccio L'ho fatta oggi Perché ho visto una notizia Di cui vi parlerò dopo Che mi ha fatto particolarmente incazzare E non sono riuscito a trattenermi Ok? Ma lo sfogo fino a si stesso Non serve a nulla E i social sono l'apoteosi Di questa minchiata di sfogo Che non serve a nulla Ma che senso ha? Che senso ha? Se perfino quello che doveva essere La grande rivoluzione Grillo Il Movimento 5 Stelle Quelli che andavano sul blog Quelli che andavano sui social E che vi dicevano come stavano le cose E che mandavano a fanculo tutti Si sono rivelati peggio perfino di quelli prima O comunque equivalenti Allora Cosa possiamo fare su tutto questo? Io non lo so Io vi ripeto tutti i giorni Che la via La soluzione È personale Bisogna trovare una soluzione personale Su vari livelli Che vi porti Appunto A cercare di trovare una via Che per voi sia migliore Perché quella collettiva Oggi non c'è Non c'è Probabilmente a livello mondiale Con le banche centrali Che continuano a pompare Una bolla galattica Galattica Incredibile Incredibile Pensate A che cosa ha fatto Nei primi tre mesi La borsa americana Di Wall Street Ha fatto un rialzo Tra i maggiori Dagli anni 80 Non mi ricordo Dopo una correzione pesante Di fine 2018 Perché? Perché forse La Federal Reserve Farà marci indietro E quindi Tutte le banche centrali Stanno già parlando Che apriranno di nuovo i cordoni Perché si rendono conto Che una mini recessione Non te la puoi permettere Perché non te la puoi permettere Una mini recessione Che è normale Nei cicli della vita Voi pensate A cosa fate E cosa lavorate Un anno Guadagnerete di più Un anno guadagnerete di meno Un anno magari Andate in negativo È normale in economia No In questa bolla Super bubble galattica Non si può Non può più tornare indietro Perché tutti i parametri Dell'economia E della finanza tradizionale Sono stati alterati E quindi praticamente Sto è una piccola correzione Succede il rischio Di uno sfracasso Del crash globale Peggio di Lehman Brothers E siamo a sti livelli E quindi tutti A fare marci indietro A dire no No Non si può E quindi Torniamo indietro Trump che attacca Il governatore Il presidente De la Federal Reserve E così via Perché sono sempre loro A comandare il gioco Comunque Adesso non voglio Fare queste discussioni Sulla bolla globale Però solo per capire Come oggi Non puoi permetterti Neanche una virgola Una virgola Di normale E fisiologica Recessione Dell'economia Che è normale Non si può crescere All'infinito Non esiste in nessun mondo Che tu cresca All'infinito Nemmeno su Marte Nemmeno la galassia Di Alfa Centauri È normale Che ci sia una crescita economica Che poi ha dei cicli di correzione Perché hai avuto Degli eccessi Hai avuto una crescita Correggi Ti riorganizzi E riparti Su nuove basi Questa è L'economia Questa è la finanza Questa è la borsa Oggi Non è così Oggi Le recessioni Al limite Si realizzano In piccole Brevi Correzioni Del flusso di crescita Cioè vuol dire Che se tu crescevi del 3 Cresci del 2 Infatti Sono usciti recentemente Adesso Poco fa I dati americani Che ha una crescita Del pivide 3,2 Rispetto al 2,3 Che era stato preventivato Quindi È già finita lì La recessione Oggi Perché Trump Ha rotto i coglioni Al presidente della Fed Il presidente della Fed Comunque Dicono che sono banche private In mano alla finanza Come Banca Italia Uh Terribili Peccato Che la maggior parte Le persone che stanno lì dentro Sono elette dallo Stato Sono elette dallo Stato La Banca Italia Non è privata Hai le persone Che sono elette dallo Stato Il governatore Deve essere Confermato Dal ministero dell'economia Deve essere confermato Dal presidente del consiglio E le banche Le banche La sovranità La sovranità di sta minchia La sovranità di sta minchia Queste banche centrali Continuano comunque A essere perfettamente Interconnesse Con gli stati E con la politica Che comunque Pensate che faccia Gli interessi Guardate Non so Non so neanche più Che cazzo dire Voi pensate che facciano Gli interessi del popolo Vi dicono queste stronzate Ma che interessi del popolo Ma non esistono Gli interessi del popolo Ma che cos'è il popolo Che cos'è il popolo Se non è un'identità Stratta Per prendervi per il culo Per il culo Da sempre Con questa forma Di democrazia A suffragio universale Che prende per il culo La gente L'unica cosa che interessa Deve essere una somma Di interessi privati Interesse tuo Deve essere l'interesse tuo Che decidi che cosa fare Che cosa buona per te E per la tua famiglia Quello conta E la somma degli interessi Di persone diverse Con diverse istanze Porta a qualcosa Che potrebbe anche essere comune Ma è molto pericoloso Che sia controllato Da un'entità politica Centralizzata Come potete ben capire Se non siete completamente Lobotizzati Lobotomizzati Deve essere decentralizzato Questo processo Deve essere una somma Il più possibile decentralizzata Dove ciascuno Farà i suoi interessi E poi dopo Si sommeranno insieme In un'entità comune Ok Questo è Però oggi Cosa sta succedendo Che sta riprendendo Tutto l'ambaradan Della superbolla Perché Le banche centrali Si sono rimesse Tutti insieme A fare quello Che fanno danni Questo Secondo voi È un segno di successo Siete più ricchi State meglio Non credo proprio Avete i vostri risparmi Che rendono soldoni Che sono i risparmi Che è anche giusto Che uno Dopo essersi fatto il culo Lavorando E pagando un sacco di tasse Li metta lì No Non rendono un cazzo Non rendono un cazzo Non sapete dove metterli Il fatto che voi Non sappiate dove mettere I vostri risparmi Non vuol dire Che siete degli speculatori Di merda Come dicono questi falliti Animaletti Di bestia Di merda Vuol dire Che se voi I vostri risparmi Non sapete dove metterli C'è qualcosa Che non va Perché è normale Che i risparmi Dovete sapere Dove metterli E non ha interessi zero Perché gli interessi zero Non esistono Sono fantascienza Dal tempo dei sumeri Io mi risparmi Di presto a qualcuno Se ho un qualche ritorno E li presterò Che mi dà un ritorno maggiore Se mi dà un ritorno maggiore A maggior rischio Saranno cazzi miei Il famoso rapporto Rischio-rendimento Che non esiste più Da tempo Non esiste più Da un sacco di tempo E tutti se ne sbattono Il cazzo E tutti vanno dietro A Greta Gretì E i gretini Ok? Invece di pensare Ai grossi veri problemi Che non Da qua a X Saremo tutti morti Per il crollo globale Global No No saremmo morti Veramente Se continua così Per ben altre ragioni Molto più Tangibili E da breve Vabbè Comunque Adesso mi è scappato Il pippone generalistico Io semplicemente Mi sono incazzato Come una bestia Come una bestia Perché ho visto Un sondaggio Non ho Controllato La sua credibilità Però ho guardato Che l'hanno bilanciato Persone di cui mi fido Bene Questo sondaggio Va a dire Che il 52% Di italiani Ritiene che bisogna fare qualcosa Per bloccare legalmente In maniera centralistica L'immigrazione Degli italiani E dei giovani Allora Ve lo devo commentare? Lo devo commentare? Sì Per la maggioranza Della gente Lo devo commentare E spiegare Perché Pensare Che si possa concepire Che il 52% Degli italiani Vuole Bloccare Legalmente In maniera Totalitaristica Che nemmeno Pol Pot e Mao E Hitler Messi insieme Sarebbero arrivati A certi livelli Le immigrazioni Di persone Che qua Non trovano Occasioni Perché E non le trovano E perché Per la ragione Che vi spiegavo Non ci possono essere E non ci saranno Non ci saranno E sarà sempre peggio Ok? Di fronte A quel sondaggio Di 52% Che di persone Che in maniera Totalitaristica Che ripeto Nemmeno Pol Pot Nemmeno uno stragista Che ammirate Come Mao O come Che Guevara Eccetera O come Un nazionalsocialista Perché è uguale Comunismo Nazionalsocialismo Sono ideologie Criminali E totalitaristiche E illiberali Che distruggono Le persone Distruggono La libertà Delle persone Distruggono Il benessere Che siano di sinistra O di destra Non cambia un cazzo Sono illiberali Punto Ai 52% Di italiani Sfigati Di cui Secondo statistiche 7 su 10 Vivono come Dei mantenuti Mantenuti Ok? Siamo A livello Di mantenuti Parassiti Ma io non lo sto dicendo Con cattivella Abbiamo un pacco Di pensionati 16 milioni E fischi A 18 milioni Di rapporti IMS Poi abbiamo I bambini Giustamente i bambini Bisogna mantenerli Santo Dio Chi cazzo dice niente Nica li mandi a lavorare A 5 anni Eccetera Hai un sacco di persone Collegate a tutto questo sistema Hai una marea Di persone In Italia Che sono 7 su 10 Statistiche alle mani Che vi pubblicherò Statistiche Ufficiali Che trovate ovunque Potete confermare Che vi pubblicherò Nei commenti E di fronte A 7 su 10 Che vivono Come dei mantenuti E vengono mantenuti Da 3 stronzi Su 10 Che non riescono più A produrre lucchezza Sufficienti Sempre meno E in maniera Sempre meno Sostenibile Per questo sistema Ponzi Parassitario Ecco Di fronte A una situazione Del genere Naturalmente I 52% Di parassiti Di merda Sostenuti Ti dicono Tu non puoi emigrare Perché devi pagarmi Il culo Devi pagarmi Il cazzo Di mio culo Lo capite Mi devi pagare Il mio culo Col culo Degli altri Ecco Questa è una situazione Che mi ha fatto Veramente imbufalire Ci sono i giovani Che fanno i flash mob Perché fra 7 anni 7 mesi 3 giorni 3 minuti Il mondo collasserà Per ragioni ecologiche Come dice la gretina E i gretini Ok Ma non si preoccupano Perché loro Stanno pagando Quota 100 A gente Che va in prepensionamento O stanno pagando Un reddice O cittadinanza A persone Che non troveranno Mai un lavoro Li stanno mantenendo I giovani oggi Non capiscono Un cazzo Ma vi volete svegliare Ma volete svegliarvi Che voi dovete Creare Dovete chiedere Non Non dovete pensare Che lo Stato È la vostra soluzione Dovete pensare Che il debito Non esiste Dovete pensare Che dovete chiedere La possibilità Di realizzarvi Cioè di avere La massima Libertà Di iniziative Senza che lo Stato Vi rompa Il cazzo Senza che lo Stato Al limite Faccia da arbitro E vi lasci liberi Non vi metta 70% di tasse E burocrazia assurda E tutto il resto Non c'è nessuno Che chiede tutto questo Non c'è nessuno Che chiede tutto questo Di cosa stiamo parlando? Di niente Io sto parlando Una minolanza assoluta Qua Lo vedo benissimo Lo so benissimo Mi è scappata Questa cosa qua Ma non serve a un cazzo Di niente A nessuno Se non la minoranza Che l'unica soluzione Che ha È individuale È di andarsene Di scappare via Che non è scappare Ma di trovare Una scelta nazionale Che dica Io qui Non posso realizzarmi In nessun modo Cioè vi rendete conto Il 52% Di parassiti Di merda Che hanno Delle rendite Eritate Da una situazione Diversa Che esisteva prima Di fronte A una situazione nuova Vanno a dire Tu non te ne puoi andare Vanno da un giovane A dire Che non ha il diritto Di emigrare Di un mondo globale Nell'Europa Ma vaffanculo Ma voi giovani Gli flash mob Della gretina Ficcatevi nel culo Andate a spaccare il culo Voi che siete giovani A questa gente Che vi dice queste cose Assurde Voi potete andare Dove volete Quando volete E nessuno Ve lo deve impedire Tantomeno per legge Tantomeno i parassiti Che voi mantenete Vergogna 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 soprattutto a voi Bestie Animali giovani Spaccatevi il culo A questi animali Che vi vogliono schiavizzare Che vi stanno distruggendo Con quota 100 Solo perché Quella merda di Salvini Vuole il consenso Ovunque Ovunque Anche dai pensionati Da tutti Non gliene frega Un cazzo di voi E gli M5S Sono una manica Di falliti assoluti Assoluti Che non esistono In nessun mondo civile Esistono Dei libri Di fantascienza E vi stanno distruggendo Distruggendo E voi li votate Coglioni Vi meritate Il vostro fallimento Per tutto In tutto Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Questi non vogliono Farvi emigrare Emigrare I vostri nonni Sono emigrati E vi mantengono Ancora Oggi Parco Diaz Vi mantengono Ancora oggi Lo capite? Non può esistere In nessun paese Civile Democratico Il 52% Di persone Che pensano Che si possa impedire Per legge Di andarsene Dove vuoi? Quando vuoi? Con i sacrifici? Facendoti il culo? Porco Diaz Oh no Non esiste Non esiste Tanto più In un mondo globale Dove io Le occasioni Le trovo ovunque E poi dopo E proprio così E proprio andandomene E proprio Creando e valorizzandomi In altri posti La mia ricchezza Che mi ha dato anche l'Italia La mia preparazione Che posso tornare A salvare il paese Non giocandola In mezzo Una massa Di pezzenti Devastati mentali Che stanno a giocare Su 40 euro Di reddito di cittadinanza Ma scherziamo No Non mi viene Nessuno sciopone Roberto Nessuno Fidati Nessuno Verrà a voi Falliti di merda Verrà a voi A me no A me no Comunque Dicevo Allora In qualunque Società Un minimo liberale Democratica Avanzata C'è la possibilità Di scelta Personale Io devo scegliere Che cosa poter fare Cosa non poter fare Se emigrare O non emigrare E che ci siano 52% Di persone Che in un sondaggio Però il teatro lo devo prendere In un sondaggio Lo metto poi nel link Non mi preoccupate Allora In un sondaggio Dicano che Bisogna per legge Impedire alle persone Ai giovani Di emigrare E follia Allo Stato Puro Perché Ma Stiamo scherzando Stiamo scherzando Cioè Gli italiani Sono emigrati Per decenni In tutto il mondo Ci sono anche fatti valere Hanno fatto anche Gli inconvenienti Andate a vedere in Argentina Forse ho fatto l'esempio sbagliato Andate a vedere negli Stati Uniti Andate a vedere in tanti posti del mondo E così Hanno rimandato Una marea di rimessi in Italia Sono tornati che i soldi Hanno ricostruito l'Italia Di un momento migliore Tutti fanno così Tutti emigrano E se il paese Dopo uno sbandamento Globale di massa Di devastati Mentali assoluti Come abbiamo oggi Riesce a ritrovare Un minimo Di linea Sensata Di crescita E come dire Virtuosa Allora la gente Torna Ok? Torna e fa le cose Ma nel frattempo emigra Io non posso Impedire a un giovane Di emigrare Perché oggi qui Non trova nessuna occasione Se non un fallito Di merda Come Di Maio Un fallito Di merda Come Di Maio Che ha vinto la lotteria Politica Di quell'aborto Abominio Della piattaforma Rousseau E che non capisce Neanche che cazzo Sta dicendo Quando un giovane Capisce che nelle mani Dei devastati Mentali del genere Piglia e se ne va Però Chiaro che non è che Emigrare sia facile Non è che vai a Londra Senza sapere l'inglese E vuoi mettergli Non dice La fai Un sacco di gente È natale ai canari Io li conosco Sono problematiche Che affronto da tempo Sono robe che conosco da tempo La gente qui Parla nel suo cortiletto Senza neanche sapere Di che parla Allora Il concetto È che siamo di fronte Cioè Non è che Delocalizzarsi è facile Però Se ti prepari bene Se miri bene A delle occasioni importanti Vai Fai E magari poi torni Ma non puoi pensare Che il 52% Di passi Di merda Talliti Che stanno portando A fondo Questo paese Vogliono addirittura Attraverso una legge Dello Stato Impedire alle persone Cioè Almeno Come intenzione generale Impedire alle persone Giovani Di andarsene Di andarsene E cercare occasioni migliori Questa è una roba terribile Di un mondo globale Di un'Europa Che in teoria Ancora oggi Offre occasioni La Germania Andate Ci sono un fior di siti Che ti offrono Cosa chiede La Germania E un italiano Può trovare posto di lavoro Anche in Olanda E così via E viceversa E poi In tutto il mondo Non si può avere Una situazione del genere Lo capite E questo Che mi ha fatto incazzare Come una biscia Pensare che io Giovane Io da giovane Faccio Quel cazzo Che mi pare E' chiaro E' chiaro Perché è giusto Così La follia Creativa Dei giovani Io non ce l'ho più Sono ancora fin troppo folle A fare questi video Di merda con voi E a sputtanarmi Pubblicamente Lo capite Ma non esiste Il giovane Ha la possibilità Di fare quel cazzo Che vuole Vuole andare in Congo A aprire Un ufficio high tech Ma faccia come cazzo vuole Ma non puoi pensare Che il 52% Di palla al piede Di minchia Gli dicono Che non può andarsene Questa è la rovina Questa E' l'ennesima Distrazione Dimostrazione Che questo paese Non ha futuro Non ha speranza No hope For this Italy Come dico da tempo Pure in un hashtag Ok Non ha senso Che altro devo aggiungere? Boh Non so Ditemelo voi Comunque Andrò a controllarmi Il meglio sondaggio Spero che sia Fallace Ma non lo è Perché Nel momento in cui vedo Quella rincoglionita Della taverna A dire che due rincoglioniti Di siciliani Se ne tornano in Sicilia In mezzo alla mafia A tutto il resto Che dopo che sono dati Dieci anni a Londra Che bello Perché si sentono Stato alle spalle Ma che Stato alle spalle? Alle palle Non alle spalle E' roba di questo genere Quando vedo questa propaganda Assurda Mi rendo conto Che non ha senso In Italia Come in tutto il mondo Cioè Allora pensate Non è che io migro a caso Io migro in uno Stato Che mi darà più occasioni Che cazzo me ne frega a me O almeno penso Che me ne dia O dovevo le caratteristiche Per andare a farmi valere Quindi non è questione Di dire Me ne sto in Italia Ma per cosa? Ma per le centinaia Di migliaia di giovani Che sono morti Nella prima guerra mondiale Nelle trincee Per nulla Ma cos'è sto patriotismo? Ma non esiste Ma non esiste Il mondo oggi è bello Perché Perché è vario Perché è diverso Perché puoi andare dove vuoi Non è facile Ma hai un sacco di occasioni Che non avevi Non avevi Non esisteva Io penso Al mondo delle langhe Che è ricchissimo Oggi nel Monferrato Com'era 70 anni fa Nel Nei libri di Come si chiama? Santo Dio Adesso Vado sempre a braccio E quindi certe volte Mi scappa la memoria Comunque Ci sono un sacco di testimonianze Di libri Qual poi mi verrà in mente Che ti mostrano Come le persone Si addormentava Dovevano aspettare Che si addormentasse Prima lo stomaco Della testa Per riuscire a dormire Perché avevano fame Fenoglio E quindi I romanzi di fenoglio Che sono realistici Ma ci sono tante altre situazioni Di questo genere Capite? Allora La gente aveva il diritto Di migrare Per cercare condizioni migliori Ma era difficile all'epoca Oggi è molto più facile Oggi è molto più facile E io in questo mondo globale Non devo Non devo nemmeno tentare Perché il 52% Vuole che io gli paghi Il fatto che li mantengo Questo secondo voi È giusto in questo paese Questo è un paese Che ha futuro Ditemelo voi Io penso che questa roba qua Non possa che fare incazzare tutti voi Come ha fatto incazzare da bestia me E mi ha portato a fare un video Che ho fatto E tanto non si dirà un cazzo Perché tanto il 52% è lì È matematico ragazzi Se andate a vedere i dati Avete una marea di parassiti Che campano E di mantenuti Che campano su quattro gatti Ed è sempre più così Quindi questi Più che dire State qua Manteneteci Più che Vivere nel mondo fantasy Delle fantasie Della decrescita Di altre robe assurde E loro possono permettersi E continueranno E vi porteranno a fondo Vi distruggeranno Vi toglieranno anche le mutande Vi toglieranno il futuro Vi toglieranno tutto Come stanno già facendo Ma non lo capite E volete anche togliere Il diritto ai giovani Di andare dove cazzo vogliono Vogliono andare in Molise A realizzarsi Ma fatelo in Molise Che cazzo me ne frega Vogliono andare in sud-est asiatico E fatelo in sud-est asiatico Vogliono andare in Cile Ma sono cazzi loro Nessuno Nessuno Può togliere questa libertà Le persone Tutto qua Che altro posso dire? Nulla Tanto questo video Non servirà a nulla I video di stronzate Balle Galatiche Di bias cognitivo Faranno un successo incredibile Rispetto a questi video qua Di nicchia E andremo avanti così Chi è riuscito a trovare Una via individuale Magari se la caverà Gli altri se lo prenderanno Nel culo Pensando pure Di essere degli eroi Del cazzo Buonanotte a tutti